Ciao, allora io ho una pila di libri cartacei enorme che tra l'altro sta continuando a crescere con la mia ossessione per Bridgerton e l'aver comprato tutta la serie ovviamente in cartaceo ultimamente io in realtà leggo molto di più sul Kindle perché leggo la sera il cartaceo dovrei avere la luce accesa e mi rimane più scommodo ovviamente però non posso non leggere più il cartaceo anche perché a me piace tantissimo leggere in cartaceo perciò girando un po' su Amazon alla fine ho trovato questa book light qui US Rechargeable Book Lights che ha tre intensità diverse e ha una clip per agganciarlo al libro perciò ho pensato visto che ho comprato questa di iniziare questo video qui ossia l'attacco alla mia DPR in realtà l'ho visto da Helen Caterin che se guardate booktuber inglesi ve la lascio linkata giù nella descrizione perché in realtà ho un canale per lei piccolo per me è enorme cioè devo 10.000 iscritti mi piace come genere di video vediamo come si gestisce ma vi porto con me tra l'altro sto registrando tipo tre video contemporaneamente perciò a un certo punto non ci capirò più niente quindi la me dell'editing mi odierà però va bene ce la possiamo fare se dividiamo bene le cartelle sul computer ce la possiamo fare perciò direi che ci vediamo stasera quando inizio a leggere ieri sera ho iniziato Christmas in Quincy che ho finito perché parliamo di una novella di tipo 130 pagine 134 pagine quindi una cosa molto molto veloce e è il mio primo approccio a questa autrice che ha spopolato con la serie The Hidens e questo è un prequel non so bene come possa essere agganciato in realtà dagli altri però è un prequel qui seguiamo Cleo e Austin che è la sua quartiere del corpo Cleo stufa dei festeggiamenti in grande stile del padre e della madrigna fugge per tre giorni in Montana appunto a Quincy Austin viene mandato per riportarla a casa fondamentalmente ma alla fine non ci riesce ed è il loro, le storie d'amore è un parolone, è il loro avvicinamento ok? è l'inizio della loro storia quindi gli ho dato 4 stelle quindi check abbiamo, ho potuto togliere di mezzo un libro dalla mia pila della vergogna siete un po' stufi di questa postazione soprattutto perché non c'entra assolutamente niente con i libri sto iniziando il secondo della serie Bridgerton ho grandi aspettative, al primo a The Duke and I ho dato 4,75 l'estate scorsa quindi ho grandi speranze che questo possa essere un 5 stelle questa è la storia di Anthony e Kate l'ho finito, altro libro spuntato dalla mia DBR fisica, dalla mia pila della vergogna anche se in realtà nel video della pila della vergogna la serie Bridgerton non ce l'avevo inclusa perché non avevo ancora l'idea di volerla recuperare tutta però se ci sto, ve la faccio vedere, gli ho dato 4 stelle subito dopo dalla pila della vergogna stamattina ho iniziato Non ti muovere di Margaret Mazzantini in questa edizione del 2008 probabilmente è apparso un giorno a casa di mia madre come avevo già spiegato nel video della pila della vergogna e se ho la sensazione di averlo già letto e di averlo rimosso per qualche motivo o almeno di averlo iniziato perché i primi capitoli mi sembrano capitoli che ho già letto però non ricordo come va a finire la storia quindi è probabile che io abbia iniziato i primi paio di capitoli, non mi sia piaciuto e l'abbia DN fatto e poi appunto è rimasto a casa di mia madre è probabile, è possibile altro libro dalla pila della vergogna al momento sono a 70 pagine su 300 conto di finirlo in un paio di giorni e di passare al successivo ma vedremo in realtà mi vedete truccata perché sto registrando un book tag ho finito di leggere Non ti muovere di Margaret Mazzantini ho la sensazione di aver che forse lo avevo iniziato e poi abbandonato qualcosa del genere stavolta sono riuscita effettivamente a finirlo perché la scrittura della Mazzantini mi piace ma questa storia assolutamente no cioè lui ogni giorno è patentato cioè abbiate verità ma che persona sei? cioè che persona sei? e qui non si tratta di personaggio moral grey o roba del genere ma qui si tratta è tutto proprio un testa di lui racconta alla figlia in sottoperazione in coma le donne della sua vita o meglio nello specifico di sua madre e di una donna di nome Italia ripeto la scrittura della Mazzantini mi è piaciuto la storia decisamente no però è un altro libro che ho spuntato dalla TBR e subito dopo ho ricoverato Indigo Ridge di Daphne Perry è il primo della serie di Hedens viene subito dopo Christmas in Quincy e sono a tipo il 18% sono a pagina 62 e per il momento mi sta piacendo ho finito Indigo Ridge mi è molto molto piaciuto continuerò sicuramente la serie quindi devo recuperare assolutamente i cartacei appunto di tutta la serie e ho iniziato M for Mommy di Eleanor O'Reilly che avevo comprato a Dublino in realtà sto andando abbastanza lenta su questo la scrittura non è proprio inglese inglese nel senso che ci sono alcune parole e alcune alcuna grammatica delle frasi che non sono propriamente inglesi non so se facciano parte magari del parlato irlandese oppure se sia proprio una scelta dell'autrice perché tra l'altro questa è un'opera di debutto di un'autrice appunto irlandese perciò vedremo vorrei riuscire in realtà a finirlo in un paio di giorni ma la vedo abbastanza dura perché per il momento in due giorni ho letto 115 baci su 410 quindi la vedo un po' dura però vedremo ho finito di leggere M for Mommy e questo libro io penso che per me questo libro è stato un incubo da recensire perché per il primo 50 barra 60 ho sofferto perché lo volevo abbandonare perché era lento perché per quanto mi piacesse mi piacesse il punto di vista di Jacob che è un bambino autistico quindi vediamo tutto il procedimento nel suo cervello che ho trovato assolutamente fenomenale era semplicemente vedere la loro vita giorno per giorno ci sono 4 conti di vista c'è Jennifer c'è Jacob c'è Annette che è la mamma di Jacob e Jenny e e c'è Mayenne che è la nonna di Jenny ma in realtà diciamo che il libro è trascinato dalla voce di Jenny in realtà mi sarebbe piaciuto vederlo esclusivamente dalla voce di Jenny perché fondamentalmente diciamo che i capitoli clou i capitoli che effettivamente sono più interessanti sono quelli trascinati appunto da Jenny questa bambina delle scuole medie se non sbaglio mi sembra fatica quella prima media e se non sbaglio non ci dice una vera proprietà però ce lo fa intendere e super affezionata al fratello super legata al fratello nonostante appunto Jacob sia un bambino speciale come dice la nonna diciamo che ha un po' come in realtà lei affronta appunto questo audismo del fratello con tutte le sue ripercussioni nel senso con tutte le ripercussioni che ha a scuola il fatto che abbia un fratello insomma un po' particolare e tutto nasce dal fatto che la mamma di Jenny appunto Annette a un certo punto si sente male ha un'ischemia viene ricoverata e ovviamente sta via per tanto tempo quindi la nonna di questi bambini si trasferisce a casa loro mi sarebbe piaciuto vedere il padre insomma affrontare tutta questa situazione della moglie in questa situazione e l'invasione tra virgolette della suocera a casa appunto per prendersi cura dei bambini però si mi è piaciuto è un libro molto nella media ripeto mi ha messo in serie difficoltà per recensirlo perché la prima metà io la farei così e la butterei via se non appunto il capitolo dove la mamma si sente male ma per il resto la seconda metà è talmente un altro libro sembra proprio scritto da un'altra autrice la pillola della vergogna sono riuscita a leggerne 1, 2, 3, 4, 5 in questo video abbiamo letto Christmas in Quincy di Daphne Perry The Viscount Who Loved Me o Il Visconte che Mi Amava in italiano di Julia Quinn della serie Bridgerton è il secondo Non Ti Muovere di Margaret Mazzantini libro a cui ho dato il voto più basso dell'anno per il momento Indie O'Ridge sempre di Daphne Perry che è il primo della serie di Haydans che è stata una piacevole scoperta e Anne for Mummy di Eleanor O'Reilly che appunto è l'ultimo di questo video io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un pollice in su fatemi sapere nei commenti quanti libri avete poi nella Pella della Vergogna nella TBR in quei libri che sono lì dovete leggere ma non state leggendo e noi ci vediamo la prossima volta ciao